È stata inaugurata sabato 11 febbraio alla Galleria Art Studio di Via Mazzini una mostra d'arte nella quale espongono i seguenti artisti Samuele Contalini, Margherita Lanconelli, Gianmaria Lanucara, Eros Mariani e Atos Ragni È stata inaugurata la mostra, tu sei uno degli artisti, spiegaci un po' di cosa si tratta e come sarà strutturata poi Si tratta di un'esposizione di quattro pittori e uno scultore di diverse età, alcuni sono artisti internazionali come Atos Ragni che è esposto in due biennali in diversi paesi e rimarrà aperta fino al 3 marzo, aperta tutti i giorni, dalle martedì, giovedì mattina e tutti i giorni tra la domenica e il giovedì pomeriggio Per quanto riguarda i tuoi dipinti se ce li puoi un attimo descrivere Va bene, allora, questo qui rappresenta la decadenza della nostra società in quanto ci sono un gruppo di uomini che si sporgono su un dirupo di diverse classi sociali poi ci sono le bandiere, le croci, quindi la religione, le idee che non si rinnovano, periscono e davanti appunto l'uomo non gli rimane che il nulla perché i suoi valori sono decaduti Dato che la società è incapace di rinnovarsi, ho rappresentato il buio davanti a queste persone per indicare come l'assenza di prospettive, di un fermento culturale o di nuovi pensieri, nuove idee che, diciamo, possono cambiare il mondo e non far pensare l'uomo come un essere solo abbandonato, la sua insicurezza Per quanto riguarda la sede, dove risiede la vostra mostra, cosa ci puoi dire? Allora, l'Art Studio è una galleria gestita da Marcella Vrzalova, che è una pettrice di origine cieca e in questi dieci anni ci tiene a fare delle mostre con le mostre più varie per esempio anche ci sono stati degli oggetti, mostre di oggetti realizzati a mano e anche dai giovani ai più anziani cioè ci tiene molto a far vedere una varia cultura per esempio ci sono stati anche mostre, ci sono stati anche pittori di diverse nazioni di diverse anche regioni, sono venuti dei Toscani, sono venuti anche del Trentino Alto Adige quindi ci tiene molto a questa varietà culturale e speriamo che continui ancora ad esistere Nel caso in cui una persona fosse interessata all'acquisto di questi quadri? Eh sì, contatta il pittore, l'artista e dopo lui decidono insieme sul da farsi, sul prezzo, sull'offerta